eccoci dovremmo essere partiti la vocina metallica ci ha dato il via benvenuti a tutti ben trovati in questo incontro con air nelle scuole e io direi che non mi perdo ulteriormente in introduzioni vi segnalo su alcuni progettini interessanti diciamo così promossi da air che nelle scuole che sono nella prossima slide se ce la faccio ok eccole qui siamo in un periodo di contest siamo in un periodo di votazioni siamo in un periodo di valutazioni su appunto gli esiti i risultati i prodotti fatti a questi contest per cui se avete partecipato in particolar modo in particolar modo all'isola dei fumosi state state allerta che ci sono ci sono valutazioni in corso peraltro è in corso la valutazione degli elaborati e siccome ci sono ricchi premi per chi ha fatto dei dei bei dei bei progetti ecco seguite seguite anche le relative iniziative vi presento la super ospite di oggi anna chiara de luca che ci accompagnerà in questo percorso a parola di fisica benvenuta come stai bene buongiorno a tutti molto bene sono emozionata si beh 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 ci sta nel frattempo io chiedo a chi ci segue attraverso la magica sezione dedicata all'interfaccia con noi di go to webinar di scriverci da dove ci sta seguendo quindi che classe siete che tipo di scuola state frequentando e qual è la prima seconda terza quarta quindi insomma che che classe state frequentando anzitutto perché ci interessa un pochettino ci interessa un pochettino conoscervi ecco vogliamo sapere da dove arrivate ma soprattutto perché quella è la funzione che i vostri docenti dovranno usare per fare le domande che vi vengono e quindi devono imparare a utilizzarla a modo così iniziamo a rendere fluido questo questo processo intanto mi sposto il pannello delle domande me lo metto qui dove lo riesco a leggere meglio eccoci qui scriveteci che classe siete da dove da dove ci state seguendo nella 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 sezione domande ok nel frattempo ottimo ottimo nel frattempo ti va di raccontarci un attimo chi sei di cosa ti occupi anticipiamo un po la presentazione poi entriamo nel vivo sono la chiara de luca e sono una una ricercatrice air che sono un fisico e lavoro presso il consiglio nazionale delle delle ricerche quindi il cnr a napoli no non vuoi anticipare molto sanno poi veriamo non bisogna spoilerare non bisogna spoilerare io nel frattempo io non vedo lasciato quindi ci sono delle degli studenti allora ecco stanno arrivando ok sono arrivate stanno arrivando le prime le prime ero un po preoccupato detto adesso ci sono addormentati tutti no non è vero non è vero c'è una seconda di dei che ci scrive da da brindisi e adesso attendiamo che entrino anche gli altri si mi rivolgo i professori che digitano non è intuitivissimo vedere dove compilare questa questa cosa ma è importante riuscire a capire dove dove andare perché appunto se poi gli studenti hanno domande o ci sono considerazioni qualsiasi curiosità è quella è la funzione che dovrete utilizzare un saluto da ferrara molto bene ciao perfetto perfetto ciao a tutti ok a questo punto io direi che ci possiamo ci possiamo avviare all'interno del nostro webinar come così apri sfoderati i cellulari è una cosa che in classe solitamente questa volta invece vi diamo il permesso noi di tirare fuori i cellulari di scansionare il code o di andare su www.caut.it e mettere questo pin fate il vostro accesso con un nickname non mettete nome e cognome e mi raccomando i nickname non fate i simpatici in questo in questo contesto così possiamo porvi qualche domanda per introdurci all'argomento all'argomento di oggi per introdurci a parola di fisica ok nel frattempo io tengo d'occhio che si colleghino gli studenti attraverso questo codice e vediamo non hanno esatto gliel'hanno vietato non possono connettersi perché gli è stato categoricamente vietato allora vediamo un secondo come procede il tutto questo è quanto mi dice in attesa di giocatori potete connettervi a questo link io temo che caut mi stia dando dei problemi vediamo un po se entra qual se entra qualcuno se no ho sbagliato qualcosa se no va a finire che ho sbagliato qualcosa e diamoci ancora un decino di secondi per vedere tra esatto no può essere che abbia sbagliato io a mettere il codice quindi saltiamo saltiamo questa questa prima parte e niente mi sa che riscontriamo devo aver sbagliato qualcosa nel setupare il cauto ma ci sta faccio finta di essere professionale e in io mi sono iscritta sì 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 no non non vi vedo non vede da me segna ancora 00 niente devo aver sbagliato devo aver sbagliato qualcosa qualcosa io non c'è problema passiamo subito alla tua presentazione allora facciamo finta che dimenticate tutta questa prima parte di domande erano pensate più che altro per chiedervi sapete già cosa fare dopo non sapete cosa fare dopo evidentemente io faccio finta sai Anna Chiara di sapere usare davvero queste cose sociale ho detto facciamo il cauto che bello niente non ha non ha funzionato va benissimo allora chiedo di diventare relatrice e chiedo alla regia di metterti come come relatrice in modo da poter vedere la tua di presentazione così entriamo subito nel vivo senza fronzoli va bene eccoci qua sono my screen ottimo ti vedo perfetto perfetto e buongiorno di nuovo a tutti come come già avete sentito prima immagino ci foste già tutti sono Anna Chiara de Luca e sono un fisico strano insomma per un progetto air che però vedrete che non è non è proprio così così tornerà esatto un po alla volta e parto un po con nel presentarmi insomma nel nel dirvi un po come come nasce questa questa mia passione per per la fisica nasce da bambina insomma quando ero piccola già alle elementari dicevo a tutti io da grande avrei fatto o la ballerina o la scienziata e poi ho deciso insomma di intraprendere insomma la strada del della della fisica beh all'inizio ovviamente avevo una come dire un'idea un po strana in qualche da bambina insomma di cosa volesse dire diventare un fisico o uno scienziato in mente di che ne so di volare sulla luna oppure di inventare uno strumento che non che non esisteva che non esisteva prima poi in realtà l'ho coltivata negli anni questa 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 passione devo dire diciamo il momento in cui l'ho maturata è stata il liceo sicuramente ricordo sempre con con piacere la mia insegnante di matematica al liceo che si chiama tina spampanato è praticamente è stata lei che insomma mi ha sempre detto che ma guarda c'è questa questa facoltà fisica dove fanno cose che secondo me ti potrebbero piacere ho iniziato a pensare all'idea di che cosa potesse fare un fisico di quali erano le materie insomma che in quel momento mi piacevano di più e quindi ho iniziato io ho fatto il liceo scientifico e dirige brava in queste discipline fisica la matematica la matematica e la fisica e ma da sempre sono sempre state una una materia che mi piaceva devo dire anche la in famiglia insomma mi hanno sempre spinto in questa direzione mio padre che non è laureato era un geometra ora in pensione però mi ricordo che facevamo queste cose della dei quiz di matematica anche lui era molto appassionato in realtà lui si era iscritto all'università ma non insomma ha fatto pochissimi pochissimi esami però c'era questa cosa in famiglia di come dire di stuzzicare la mia la mia la mia fantasia però il momento in cui l'ho maturata è stata è stato sicuramente il liceo grazie a questa professoressa devo dire una una motivatrice un insegnante eccellente per i docenti che ci stanno seguendo è che a volte non forse per me è rimasta un esempio la frequento ancora oggi diciamo ci sentiamo ancora per insomma nelle festività abbiamo non abitiamo tanto lontano quindi qualche volta insomma la passo a salvare perché è stato comunque un punto di riferimento molto molto importante da lì che è nata come dire la mia carriera insomma è stato sicuramente un riferimento molto molto importante poi mi hai detto dai proviamo fisica proviamo proviamo fisica e quindi mi sono scritta all'università e mi sono laureata nel nel 2003 in fisica all'università di napoli federico secondo e poi diciamo con con il professore con cui ho fatto insomma la tesi la tesi di laurea che era in un settore completamente diverso da quello a cui di cui mi occupo ora facevamo spettroscopia però con applicazioni in campo in campo ambientale e quindi tutt'altra tutt'altra cosa però il professore anche lì una persona veramente squisita il professor antonio sasso mi propose di fare il dottorato nel nel suo laboratorio perché si sarebbe aperta una nuova linea di ricerca e l'idea era quella di utilizzare la spettroscopia per fini medici quindi per applicazioni biomediche e da lì era una tecnica che già usavate per l'ambiente avete detto proviamo ad applicarla per non proprio non proprio facevo spettroscopia di di altro tipo però quella di cui parleremo oggi è avevo delle competenze che avevo in qualche modo avevo messo su durante il corso di laurea che però mi potevano essere utili per aprire questo nuovo filone di di ricerche così è stato quindi ho fatto il dottorato in biofisica nello stesso laboratorio quindi nel professor antonio sasso in collaborazione con una persona che non dimenticherò mai che insomma la la postdoc che mi seguiva giulia rusciano che è stata un esempio anche in questo in questo caso mi ha seguito proprio mi ha visto nascere e crescere come come un fiore ecco ho fatto con loro questa questa esperienza quindi ho imparato delle insomma delle delle nozioni mi mancava molto però la parte come dire applicativa quindi avevamo delle conoscenze molto molto di base della della biologia di come applicare insomma le competenze che avevo acquisito sui libri nel nel mondo della 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 diagnostica per questo subito dopo il dottorato che ho conseguito nel nel 2008 mi sono guardata un po in poi intorno e ho deciso di insomma di trasferirmi all'estero e sono stata per per quattro anni verso l'università di st andrews regni unito che è un piccolo paesino della della scozia che in realtà è famoso questo paesino per due cose per il golf perché qui che è stato inventato inventato il golf e poi perché c'è questa università molto prestigiosa e è sempre insomma nei primi nei primi posti delle classifiche e ok ma è famosa perché è il posto dove hanno studiato i reali chi reale a nasa quindi ho diciamo ho intravisto per un periodo il principe c'era Harry o William? William il più grande il più grande William sì 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 credo di sì non sono poi così sotto conosco bene il gossip della corona ma mi sembra di sì e quindi ho fatto questo periodo sì ho fatto questo periodo all'università di st andrews in questo gruppo molto multidisciplinare qui ho cominciato a guardare i vari aspetti dell'utilizzo della spettroscopia per fini per fini diagnostici perché fino al momento del dottorato avevo lavorato lavorato in laboratorio di fisici eravamo tutti fisici e il salto insomma del guardarmi intorno e della multidisciplinarità è avvenuto insomma con il mio trasferimento all'estero innanzitutto ho imparato un po' a cavalmela da sola perché fino a quel momento avevo fatto come dire un percorso molto vattato in cui avevo sempre un tutor avevo sempre una persona che mi seguiva un progetto a cui dedicarmi pensato da altri quindi il passaggio dal più alla maturità insomma viene con con questo con questo periodo all'estero in cui in qualche modo ero ero da sola ero da sola nel senso che ho iniziato a mettere su un'idea progettuale tutta tutta mia tanto è vero che dopo il primo anno di postdoc decisi di applicare per un grant della richiesto dei soldi esattamente però diciamo l'idea del grant non è tanto quella di chiedere soldi perché vivevo in un gruppo di ricerca molto prestigioso quindi non era insomma avrebbero potuto pagare lo stipendio la strumentazione eccetera ma l'idea era quella di provare a scrivere un progetto mio le mie idee senza dover chiedere il supporto di un di un supervisore e questo progetto è andato benissimo è stato l'inizio allora ho detto allora posso posso farcela c'è le mie idee hanno un senso e quindi posso posso provare a fare questa 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 carriera insomma e quindi con il passare degli anni ho portato avanti questo questo progetto di ricerche nel frattempo cominciato a pensare anche che che mi insomma che mi avrebbe fatto piacere rientrare in italia quindi avevo l'esperienza sentendros è stata un'esperienza davvero insostituibile preziosa insomma mi ha aperto la mente sotto tanti aspetti però in italia avevo con mio marito e quindi volevo volevo rientrare e quindi ho iniziato un po a capire come come fare e ho ho pensato che la che la che la strada giusta fosse quella di scrivere un progetto basato su tutta l'esperienza insomma pregressa fatta 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 a sentendros e questo progetto è stato finanziato da air quindi air che mi ha dato la possibilità di rientrare in italia è stata per me un'opportunità unica e diciamo che ho cercato di cogliere al volo ho scritto un progetto molto particolare all'interno di tutte le le possibili application air che la start up grant che è un tipo di finanziamento che viene dato solo a persone che sono state all'estero e vogliono rientrare in italia contro la fuga di cervelli esatto esatto no in realtà a me non piace definirla una fuga di cervelli sai perché è stata una scelta andare fuori come dire a permettermi in gioco per vedere insomma altre realtà per acquisire nuove competenze eccetera però sono d'accordo con te che altrettanto è importante avere l'opportunità di rientrare in italia se lo si vuole ed era esattamente questa questa il mio il mio desiderio e quindi nel 2012 sono rientrata in italia grazie a questo finanziamento air e poi ho fatto insomma un concorso al cnr e ora sono ricercatrice a tempo indeterminato quindi dal 2012 ho messo su un laboratorio di ricerca al cnr perché un'altra cosa interessante di queste part up è che devi allestire un laboratorio in un posto dove non hai lavorato prima quindi non c'era un rientro da da mamma o da papà insomma non era un rientro in un in un laboratorio ma è costruire una cosa tutta mia è stato un salto nel nel buio ma è stato come dire molto dura insomma all'inizio perché hai dovuto costruire un laboratorio significa da comprare le pipette a mettere sui microscopi prendere insomma il personale dottorandi assegnisti insomma tutte le persone che mi potessero dare una mano ovviamente scrivere altri progetti per provare a finanziare questo 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 laboratorio e ora siamo insomma sono passati dieci anni undici anni e sono qui insomma un gruppo grazie 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 ad air che che mi ha che mi ha cambiato cambiato completamente la vita e lo dico ogni volta anche quando non faccio le presentazioni per air co per la scuola ma è stata un'opportunità che non è per tutti cioè non è così scontato di poter rientrare in italia e costruire un laboratorio tutto tutto nuovo e poi di avventure ce ne sono con air che ce ne sono state di nuovo è finito quel quel progetto e ne ho riscritto un altro ora insomma porta avanti un investigator grande come come dico io il grande dei grandi dubbiosa a partecipare a questo tipo di call perché ovviamente insomma competi con con tutti i più grandi scienziati del settore tiponi delle domande sarò mai all'altezza eccetera è però anche questo è andato è andato molto bene quindi continuiamo questa questa nostra avventura insomma da fisico nel nel mondo della delle applicazioni biomediche e questa slide invece ci tengo particolarmente perché è il gruppo questa foto l'abbiamo fatta ieri e quindi praticamente come come siamo in questo momento in nel nel laboratorio quindi come 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 vi dicevo è la cosa di cui ho fatto frutto è la multidisciplinarità quindi per per provare ad affrontare il cancro guardarlo sotto diversi punti di vista è necessario insomma avere delle competenze molto molto diverse e quindi il mio gruppo di ricerca non è fatto solo da fisici io sono il fisico poi abbiamo denise che di origine turca ed è una biotecnologa poi abbiamo stein che di origine iraniana ed è un fisico poi abbiamo maria che come dire la senior del gruppo ed è una biologa cellulare e poi abbiamo alessandro che è un nanotecnologo quindi come potete vedere diciamo multidisciplinarità ma si multirazionalità multinazionalità diciamo è importante come dire aprirsi la mente a tutte le possibili competenze in cui è importante come dire avere uno sguardo sul 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 mondo è bellissimo c'è un testo che magari consiglio anche agli studenti forse delle classi un pochettino più avanti che ci stanno seguendo di naomi oreskes che è una storica della scienza si intitola perché fidarsi della scienza e prova un po raccontare parla tanto in filosofia della scienza e alla fine dice caspita ma cos'è che ci dà davvero fiducia che la scienza sia un sistema che funziona che funziona bene anche se è imperfetto no perché è pieno di difetti di errori di sbagli è molto umano probabilmente è che ci sono tanti punti di vista diversi di origini diverse di formazioni diverse di idee diverse di generi diversi che controllano la stessa cosa e guardalo cioè c'è in questa foto sì sì no infatti vabbè questo è il mio orgoglio non so come come dirla meglio diciamo il laboratorio le persone che ne fanno parte per me diventano parte della mia famiglia in qualche modo quindi ho sempre anche un come dire una l'attività di ricerca la portano avanti loro con me quindi sono solo la mia famiglia sono anche loro la mia famiglia e di cosa si occupa la tua famiglia su cosa lavorate allora esatto veniamo a qualcosa insomma di più di più concreto come vi dicevo io nasco come come fisico ma che cos'è sostanzialmente la fisica l'hai detto in qualche modo tu prima che insomma all'inizio fino al diciottesimo secolo penso la fisica era in qualche modo considerata una una sorta di filosofia qualche modo applicata filosofia applicata all'osservazione della 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 natura ovviamente è una una scienza è diventata una scienza dopo l'introduzione del metodo scientifico di galileo galilei e che studia è una scienza che studia fenomeni naturali quindi l'idea che questo questa scienza in grado di misurare delle delle proprietà delle grandezze e stabilire delle delle leggi matematiche insomma che appunto riflettano queste proprietà io in particolare durante il mio corso di studi mi sono occupata di una piccola branca della della fisica la cosiddetta fisica della materia questo è stato il mio percorso insomma di studi in particolare mi sono occupata della di ottica quindi del dell'interazione radiazione materia e come la luce può interagire con con la materia e vedremo come questo questa questa tutte queste nozioni in qualche modo ho appreso sui libri possono essere utilizzate per per fini per fini diagnostici ovviamente il tipo di radiazione di cui ci occuperemo oggi è una piccola parte del campo elettromagnetico la cosiddetta luce visibile quindi che va dal dal dall'ultravioletto al al vicino infrarosso vedremo nelle prossime slide come questa luce in qualche modo nell'interagire con con la materia ci può dare tutta una serie di informazioni che possono essere anche molto utili per per applicazioni nel settore nel settore biomedico quindi diciamo la luce che è una sostanzialmente una forma di energia che non da che si muove che si muove nello spazio nell'intera nell'interazione insomma nel nell'osservazione di questa luce si possono ottenere tante informazioni per esempio grazie alla luce che è possibile misurare le distanze per esempio delle delle stelle della luminosità e si misurano le distanze esatto con la luce per esempio oramai oggi si fa tutto con i laser che ne so al supermercato ci sono tutti i sensori quando entri nell'aeroporto o che ne so il il sistemino che usano al supermercato per reggere i barcode i sistemi in fibra ora la fibra no quindi il trasporto di informazione a lunga distanza una cosa che faccio sempre con con gli studenti è fai di vedere come la luce può essere utilizzata anche per misurare oggetti molto molto piccoli no pensate a un capello un capello che lo spessore di un capello certo non si misura con un righello immagino che sappiate che un righello non è sufficiente per misurare uno spessore di un capello che è più o meno sarà un centinaio di micron immagino dalla qualità e come si fa a misurarlo un'idea potrebbe essere quella prendete un laserino questi laserini insomma che si trovano anche sulle bancarelle e mettere il vostro capello di fronte al laser vedrete che su uno schermo a lungo a lunga distanza si formano delle frange tipo quelle che ci sono qui a fianco in questa in questa immagine sono le frange di interferenza queste si formano perché la luce del laserino che ha una determinata lunghezza d'onda quindi un determinato colore è in qualche modo della dimensione paragonabile a quella del del capello quindi nell'interferire con il capello crea queste frange misurando la distanza tra queste frange esiste una formulina per cui puoi avere la dimensione del tuo capello quindi può misurare lo spessore del tuo capello in realtà diciamo la tecnica di cui mi occupo che è una forma di spettroscopia come vedremo in qualche modo parte da questo presupposto quindi da come interagisce la luce è un particolare tipo di luce vedremo quella dei laser con l'oggetto che vogliamo analizzare che nel nostro caso sono le cellule e i tessuti niente allora come 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 potete insomma osservare no tutti i giorni guardandovi intorno la luce quindi abbiamo detto questa parte del dello spettro elettromagnetico può interagire con con la materia in maniera diversa per esempio potete insomma non potete darmi dotto nell'osservare che la luce visibile attraversa il vetro o altri mezzi trasparenti però esistono dei tipi come dire di radiazione che non attraversano i mezzi tutta la stessa maniera per esempio i raggi x attraversano i tessuti ma non le rossa e quindi su questo su questo concetto per esempio si basano le radiografie le lastre sì esatto allora diciamo il concetto di cui ora parleremo in questo in questo seminario è come la luce la per quindi visibile interagisce con le cellule i tessuti la maggior parte di della della insomma la radiazione può essere in qualche modo assorbita mezzo ci sono l'acqua insomma l'acqua assorbe la luce visibile può essere trasmessa in realtà gran parte è trasmessa perché le cellule sono più o meno trasparenti per per la luce visibile ma un fenomeno che che avviene è la diffusione cioè se della radiazione monocromatica quindi luce laser interagisce con un campione che è fatto di molecole la luce può essere diffusa per via della presenza di queste di queste molecole è la parata in tutte le direzioni viene sparata in tutte le direzioni per esempio per questo motivo il cielo è blu avete mai chiesti perché il cielo è blu perché la radiazione del del sole interagisce con con le molecole presenti nella nella nell'atmosfera e viene diffusa in tutte in tutte le direzioni in particolare la luce blu e quindi si vede questo questo cielo blu e questo fenomeno è diffusione noi diciamo anelastica elastica voglio dire tutta la radiazione incidente quindi se utilizzo un laser verde per illuminare il mio campione gran parte della radiazione diffusa farà verde però un bel giorno il signor raman vediamo in foto che quello che vediamo in che cosa fece il signor raman si accorta che in realtà allora non erano stati ancora inventati laser quindi lo fece con la luce del sole osservò che oltre alla radiazione diffusa alla stessa lunghezza d'onda quindi i colori normalmente diffusi ne vedeva degli altri perché è strana questa questo questo fenomeno un fenomeno talmente strano e la cui spiegazione è talmente semplice ma come dire rivoluzionaria che gli valse il premio nobel per la fisica nel 1930 e questo effetto per cui la radiazione che illumina un campione viene per la maggior parte diffusa per effetto elastico una piccola parte che cosa fa interagisce con con le molecole e viene diffusa in maniera anelastica cioè a colori diversi da quello incidente è un po di energia esattamente che cosa succede il campione sostanzialmente è fatto di come vi dicevo di di molecole ma queste molecole non sono ferme si muovono alcune respirano alcune vibrano alcune insomma fanno delle fanno delle cose no e non sono ferme e anche la radiazione incidente in qualche modo la si può interpretare oltre che come un'onda come dei dei fotoni cioè dei treni delle delle particelle che non hanno che hanno materia ma che hanno energia che interagiscono con con queste con queste molecole che cosa succede è come se avvenisse un urto tra due macchine in autostrada che cosa succede nell'urto entrambe le macchine si stanno muovendo una macchina e le molecole l'altra macchina è insomma la radiazione incidente nell'urto la radiazione incidente perde parte della sua energia quindi la macchina perde velocità in qualche maniera ovviamente ciascuna molecola induce una variazione diversa del della 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 perdita di energia una cosa è che diciamo la macchina si scontra con un'altra macchina una cosa che si scontra con un motorino la cosa che si scontra con un camion e quindi l'interazione della dei dei fotoni incidenti con con le molecole che costituiscono in campione induce una variazione della luce diffusa e questa variazione si si traduce in un cambio del colore quindi quindi che cosa succede che oltre alla diffusione re legge è quella che domina quindi questa diffusione allo stesso colore della radiazione incidente si verde nel filtro tu ci metti un filtro per tagliare il verde che cosa vedi vedi tutta la radiazione diffusa per effetto raman quindi radiazione a diversi colori quindi che cosa che cosa è possibile fare con con questa con questa radiazione qui c'è uno schermino in pratica questa è la sorgente che come nel nostro caso abbiamo detto che un lato interagisce con un campione quindi diciamo laser verde interagisce con con il campione applico qui un filtro che mi taglia la radiazione verde che cosa vedrò vedrò che utilizzo uno spettrometro che sarebbe immaginatelo come un po il prisma della copertina dell'album dei pink floyd di reticolo che non fa altro che riflettere a diverse posizioni i fotoni diffusi a colori diverso quindi in qualche modo si ottiene questo 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 arcobaleno e poi questo questo arcobaleno viene viene mandato a un rivelatore che è un assisti di camera che sono degli strumenti molto come dire molto importanti che ci consentono di rivelare anche singoli fotoni quindi io ho una strisciolina ciascun pixel di questa di questa camera accumula fotoni e a seconda di di colore diverso ovviamente i colori quindi a seconda di quanti colori io c'è di quanti fotoni o per un determinato colore riesco a costruire una cosa del genere che è un centro uno cioè diciamo più 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 fotoni lo colpiscono più alto il picco esattamente esattamente così quindi ciascuno di questi picchi è associato a uno specifico legame vibrazionale quindi ci dà informazioni sulle molecole che compongono il campione e l'altezza eventualmente la posizione di questo picco ci dicono quanta di questa di questa molecola c'è e consentono anche di dare informazioni qualitative cioè se la molecola si trova in una in un ambiente o in un altro ambiente si interagisce con altre molecole quindi è un qualche modo lo spettro quindi la posizione l'intensità di questi picchi costituiscono una sorta di impronta digitale del campione cioè c'è ogni spettro è specifico per una molecola esattamente e e quindi qualche modo ti questo 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 tipo di spettroscopia ti consente di avere informazioni un'impronta digitale del campione che si sta analizzando come la possiamo utilizzare esatto cioè se avessimo una una library per dire di spettri che ne so lo spettro dei lipidi lo spettro degli acidi nucleici lo spettro di una sostanza e voglio capire se nel nel mio campione nella mia diciamo cubette con con il campione se è presente una determinata tipo tipo di molecole che possa acquistire uno spettro e provare a vedere se rispecchia quello della 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 libreria quindi posso capire se ci sono nel mio campione che ne so degli inquinanti o delle sostanze che non mi aspetto che non mi aspetto di di trovare oppure posso provare a identificare delle le molecole presenti nel nel mio campione ma posso anche essere quantitativa cioè se io trovo uno spettro che l'intensità è più piccolo rispetto a quello noto per una determinata concentrazione posso dire anche quante molecole ci sono nel 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 mio campione ok quindi questo tipo di spettroscopia può essere utilizzata che abbiamo detto che si chiama spettroscopia raman può essere utilizzata per identificare le molecole con le contenute all'interno di un campione per studiare l'interazione tra le molecole o in qualche modo visualizzare all'interno del della cellula o del tessuto di cui sono sono interessata a conoscere per dire la natura quindi visualizzare com'è com'è composta questa questa cellula questo questo tessuto per fare ovviamente l'analisi di una di una di una cellula quindi di una di una piccola parte del del nostro organismo questa questa tecnica questo spettroscopio che sostanzialmente è un laser e uno spettrometro si può combinare con un microscopio perché chiaro non è una soluzione come quella dei dei chimici la la cellula è complessa serve un apparato un pochettino più delicato esattamente quindi che cosa faccio io col microscopio rifletto la luce sul sul mio campione che in questo caso sarà una cellula se poi vado a osservare la luce che torna che torna indietro perché abbiamo detto che la discussione anelastica quindi in tutte le direzioni e quindi seleziono quella che torna indietro qui c'è il mio filtro particolare che mi taglia la radiazione verde che incidente e lascia passare tutto tutto il resto qui ho il mio prisma che mi separa tutte le componenti le componenti spettrale poi il tutto va alla alla camera al computer e questa è l'immagine che ottengo che cosa ottengo in pratica facendo una sorta di come dire di scansione lungo la cellula che io voglio analizzare quindi per ciascun pixel di questa immagine io acquisisco uno spettro a seconda di pixel c'è uno di quegli spettri che ci hai fatto vedere prima esattamente poi che cosa faccio dico al mio algoritmo quindi c'è anche una parte di come dire di analisi quindi dell'intelligenza artificiale che si consente poi da uno spettro a passare a un'immagine di una cosa che può essere che può essere visto quindi ciascun pixel corrisponde uno spettro poi gli spettri che appartengono tutti alla stessa classe vengono colorati tutti allo stesso maniere quindi io posso colorare di blu per dire la membrana possa andare a osservare il nucleo i nucleoli eccetera eccetera e quindi in qualche modo ricostruire una mappa a falsi colori del campione che sto analizzando e quindi posso anche essere quantitativa come dicevo quindi a seconda di dell'intensità dello spettro che vado a trovare posso dare informazioni su quanta componente c'è all'interno della cellula o del tessuto della molecola di cui sono interessata che sono un'impronta digitale di questa di questa cellula ora che cosa siamo interessati a fare noi siamo interessati a capire se le cellule che studiamo per esempio sono sane o sono tumorali sono trasformate e definire dei parametri che possono essere utilizzate per via generica per identificare la presenza di cellule trasformate ok e quindi e quindi veniamo a perché utilizzare questo questo tipo di tecnica per fini diagnostici innanzitutto qual è la quali sono le caratteristiche di questo tipo di microscopia perché ora siamo passati dalla spettroscopia alla microscopia raman quali sono le caratteristiche di questa di questa tecnica sicuramente è una tecnica la bel free che vuol dire che non ha bisogno di marcature cioè un ricercatore che vuole fare un un'analisi a un patologo che vuole fare un un'analisi di uno striscio di sangue che cosa fa fa una strisciata del sangue su un vetrino e poi usa dei coloranti usa dei coloranti e dei marker e a seconda di come si colore il nucleo la membrana gli organelli eccetera eccetera fa delle deduzioni e quindi insomma vede la dimensione della cellula va a vedere il rapporto nucleo citoplasma in qualche maniera per fare una prima diagnosi per dire di un paziente la nostra tecnica non ha bisogno di marcature cioè non ha bisogno di in qualche modo utilizzare delle degli agenti di contrasto e perché questa cosa interessante perché ci sono tutta una serie di informazioni che possiamo identificare nella nella cellula senza sapere prima quale cellula sto andando a certo per dire immaginate questa cosa io ho una mela va bene una mela questa mela in realtà all'interno c'è un vernetto è baccata diciamo le tecniche tradizionali che cosa fanno per capire che all'interno della mela c'è questo questo vernetto mangiano la mela quindi utilizzi delle delle marcature fai dei test distruggi il campione in qualche modo la mangi ovviamente il sapore non è non è buono e quindi dice alla mela era baccata peccato non averlo saputo prima di mangiarlo la mia tecnica cioè la tecnica di cui parliamo oggi consente di visualizzare la mela al suo intento quindi consente di capire che all'interno della mela c'è il vernetto ma io non l'ho dovuto assaggiare quindi la mela rimane buona se non c'è il vernetto e rimane intatta rimane intatta e ci puoi fare tante cose con con la con la mela intatta quindi la cellula in questo caso è in uno stato fisiologico e per dire che cosa puoi fare la puoi seguire nel tempo puoi vedere come una cellula anche se trasformata che come come evolve per esempio in funzione di una di un farmaco quindi ti consente di avere delle informazioni che con delle tecniche tradizionali non potresti avere puoi perché tu la modifichi una volta che la modifichi la modifichi e la colori punto basta non te ne fai più niente dopo puoi solo buttare il vetreno diciamo non puoi fare altro e invece la mia cellula consente di analizzare delle cellule che possono essere tenute viva e possono essere analizzate in funzione del tempo certo le informazioni che otteniamo ovviamente sono specifiche tipicamente quindi abbiamo informazioni su tutte le molecole che contengono il campione e se stiamo di fronte a una cellula che è stata trasformata ovviamente ce ne accorgiamo perché andiamo a vedere come è cambiato il contenuto lipidico il contenuto proteico della cellula e quindi in qualche modo abbiamo informazioni su come la cellula è trasformata la tecnica è molto informativa che cosa significa che mentre l'anatomo patologo deve sapere a priori quali sono i label che deve dare alla cellula per marcarla cioè deve sapere che una cellula trasformata esprime un certo tipo di proteine per poterla marcare nel mio caso non c'è il limite al numero di spettri che uno può analizzare e quindi tutte le proteine tutte le i comparti della cellula possono essere visualizzati indipendentemente dalle informazioni che ho della cellula che sto analizzando non devi sapere per forza prima cosa cosa andare a guardare no no e questo è un è una rivoluzione perché diciamo come come funziona per dire un una una biopsia hai un panel di 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 marcatori e in base a quelli tu studi il tuo campione se è positivo al panel 1 al panel 2 al panel 3 al panel 4 nel mio caso diciamo ti guardi lo spettro e semplicemente non non devi usare marcature vai a vedere semplicemente questo spettro che cosa corrisponde e ha già l'informazione non devi ripetere l'esperimento con con diverse marcature quindi sarebbe porterebbe anche a come dire a delle informazioni in maniera più più diretta e senza aspettare tanto tempo e questo è un'altra informazione come dire i tempi sono per effettuare una diagnosi sono sono anche come dire delle parametri importanti da tenere per per il paziente poi diciamo l'ho detto insomma anche prima questa tecnica è quantitativa quindi in qualche modo riesce a dare anche informazioni su quanto della della molecola o del materiale che in qualche modo si vuole si vuole studiare contenuto all'interno del 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 campione e qui c'è un quadro di tutte le possibili applicazioni della 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 microscopia raman come vi dicevo sicuramente la prima la prima idea è quella dell'identificazione cioè identificare la presenza di cellule trasformate questo come si fa si acquisisce uno spettro magari non una mappa uno spettro da un volume della della cellula questo avrà tutta una serie di picchi caratteristici del del campione se la cellula è trasformata questo spettro sarà diverso e utilizzando delle insomma degli algoritmi di intelligenza attività artificiale possibile identificare classificare ma anche seguire nel tempo le cellule che si che si sono che sono trasformate dici è possibile essere utilizzata per per visualizzare la presenza di tessuti trasformati quindi per fare l'imaging di tessuti e quindi per esempio noi stiamo realizzando il laboratorio dei dei sistemini raman che possono essere realizzati direttamente in fibra quindi possono essere anche utilizzati per via per via endoscopica e quindi accompagnare che si infilano e ti fanno quando ti fanno per dire la la gastroscopia no utilizzi già una sonda con un laser eccetera eccetera che visualizza nel caso specifico nostro avresti semplicemente un laser che è inviato attraverso la fibra quindi non è che ti stai allargando la fibra utilizzi quello che già c'è utilizzi quello 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 che già c'è e quindi vai a vedere la luce che viene scatterata all'indietro all'interno della 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 e poi i processi tutto fuori insomma dal 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 paziente però puoi aiutare il chirurgo nel momento della chirurgia per decidere insomma se un tessuto battagliato oppure oppure no quindi accompagnare anche nella nella nell'identificazione dei margini di un di un di un tessuto tumorale la tecnica può essere utilizzata anche per applicazioni di tipo biotecnologico quindi realizzare per esempio particolari nano nano vettori che possono essere utilizzati per il rilascio di farmaci all'interno di una di una cellula e che possono essere utilizzati lo questo lo vedrete nelle prossime slide per monitorare il rilascio di farmaco all'interno della cellula utilizzando la spettroscopia raman si possono studiare vari meccanismi regolatori all'interno della cellula per il metabolismo se si tratta di cellule vive insomma morte quindi come la cellula per dire interagisce con con un farmaco come si differenzia come si pubblica diciamo come avviene il processo di di trasformazione così come si può studiare tutto quello che viene rilasciato dalle cellule quindi la matrice extracellulare come vi dicevo insomma ci sono bare si apre il mondo alle posizioni le prospettive sono tantissime esatto non ultima insomma anche quella per per applicazioni in endoscopia vi faccio alcuni esempi di come la utilizziamo usate esatto questo è un lavoro recentissimo che è stato pubblicato questa è roba vera ci sono applicazioni che fate voi sì questo è un diciamo ho messo il più recente è stato pubblicato un mesetto fa e che cosa che cosa abbiamo studiato in questo lavoro abbiamo studiato delle particolari cellule tumorali le cosiddette cellule tumorali circolanti che sono delle cellule così un po la cui caratterizzazione ancora non è ben definita si suppone che siano delle cellule che vengano che si staccano dal tumore primario entrano in circolo nel insomma nel sangue del paziente probabilmente sono poi queste cellule tumorali circolanti a dare vita alle metastasi ok perché probabilmente girano nel sangue e dove si vanno infilare può essere che si è fatto esatto però diciamo lo studio di queste cellule tumorali circolanti è ancora agli inizi ma c'è un motivo per cui ancora agli inizi perché praticamente con i metodi tradizionali è molto difficile pescarle perché ne abbiamo praticamente una dieci cellule tumorali circolanti in un ml di sangue quindi miliardi di altre cellule che sono i globuli rossi globuli bianchi e così via altro che cercare un ago in un pagliaio no direi che che siamo ben oltre ben oltre l'ago di un pagliaio quindi esistono tutta una specie di trucchi e di tecniche che si possono usare per per provare ad isolarle e questo è stato fatto per alcuni tipi di rumore per esempio per per il tumore alla mammella perché cosa si sa si sa che sulla membrana di queste cellule tumorali è espressa una particolare proteina e quindi è possibile fare delle biglie magnetiche in grado di catturare quel determinato recettore e quindi solo le le cellule che si attaccano le vai ad osservare e questo è vero è vero per per un tumore che è noto per insomma per tu sai cosa cercare cioè poi il magnetico tra virgolette giusto adesso se però non lo conosci non sai come fare quel magnetino e il fatto che non lo conosco è noto cioè nel senso che non è detto che se tu pure sai che quel paziente ha quel tumore non è detto che tu sei in grado di trovare quella cellula le cellule tumorali circolanti perché durante il processo di metastatizzazione perdono queste 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 proteine caratteristiche si trasformano in altro e quindi non te le ritrovi certo è ma sono importanti perché sono importanti perché capire se le hai o non le hai può avere un alto valore diagnostico e capire una volta che hai l'isolate che cosa sono diventate come si sono trasformate perché sono sopravvissute alla chemioterapia certo si può dare delle informazioni prognostiche che sono di una di un'importanza vitale per il paziente quindi non tanto per per fini per fini diagnostici perché mi immagino che all'inizio sia proprio se diciamo in un tumore solido abbiamo una 10 cellule tumorali circolanti non ml diciamo all'inizio farà molto difficile però per fini prognostici possono possono davvero essere avere un valore inestimato così domanda magari non siccome ci seguono anche classi più 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 giovani velocissimo differenza tra diagnosi e prognosi allora diagnosi è quando non è ancora un tumore quindi esistono delle analisi per dire che si fanno in maniera preventiva come per capire dove il problema se c'è un problema come fatto ok esattamente la prognosi invece è in pratica identificare il tipo di tumore per poi dare una come dire una terapia giusta e quindi seguire poi il paziente anche nel tempo come sta andando esatto come reagisce poi fatta la prima fase di cura come passare insomma la seconda il follow up e così via ok per questo è prezioso questo lavoro altro che esattamente quindi come funziona nel nostro caso l'identificazione che cosa facciamo noi abbiamo un filtro ma questi si usano proprio di standard che toglie tutti i globuli rossi che sono la maggior parte delle delle cellule poi ti ritrovi in una provetta tutto il resto quindi globuli bianchi eventualmente le cellule tumorali circolanti e noi che cosa facciamo mettiamo queste queste cellule su un vetrino le teniamo ancora che cosa facciamo mettiamo impasto del glucosio le cellule tumorali che sono delle affamate no perché sapete che si devono duplicare duplicano molto velocemente quindi mangiano fagocitano questo 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 glucosio e quindi lo nel mangiare lo trasformano praticamente in accumuli di grasso che troviamo all'interno della cellula che sono queste palline luminose che vi ritrovate quasi sono le lipid droplets quindi sono proprio delle goccioline di di lipidi di grasso e noi che cosa abbiamo visto che con la spettroscopia raman possiamo identificare la presenza di questo accumulo di grasso dovuto al glucosio mentre me ne glupoli bianchi non c'è questo accumulo di grasso perché diciamo sono apprendono il mio coso per fanno in maniera come dire un po più calma pacata e quindi morire la testa esattamente quindi noi utilizzando lo spettro quindi vedendo piccoli del del glucosio che si mette in una zona dello spettro tempore cisa possiamo identificare una cellule o l'altra con un'efficienza del 99 per cento quindi altissima ma soprattutto noi non le abbiamo noi che abbiamo fatto niente a queste cellule le tenevamo in cultura lì sul vetrino stavano benissimo dopodiché una volta che li abbiamo identificate possiamo anche seguirle nel tempo e studiarle studiare come si sono differenziate per dire dal tumore primario e si possono avere tutta una serie di informazioni che non sono disponibili con con le tecniche tecniche tradizionali ovviamente questo è uno studio molto molto preliminare in cui noi ci abbiamo messo le cellule tumorali apposta nel sangue del donatore sano quindi per avere un controllo di quante ce ne erano eccetera eccetera quindi è un come dire un progetto non clinico un progetto di ricerca al momento di base però ci stiamo avvicinando alla parte applicativa questo è il primo studio in cui dimostriamo si può fare ora abbiamo una collaborazione con l'istituto tumori di napoli che praticamente in linea d'aria è a 200 metri dal cnr con cui stiamo scrivendo questo protocollo d'intesa e quindi cominceremo anche a studiare il sangue dei pazienti vediamo come come se la nostra tecnica insomma può migliorare noi diciamo questo è un progetto molto in cui credo tanto cioè è praticamente il fulcro del del mio progetto progetto aec l'idea di identificare queste cellule tumorali circolanti ma il mio progetto anche un secondo scopo quello di studiare queste cellule come interagiscono con 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 i con i farmaci e veniamo alla slide numero 2 perfetto io ti avviso che hai non più di 5 minuti che poi dobbiamo salutare vedere se c'è qualche domanda dobbiamo correre va bene me la dico in cinque minuti praticamente che cosa abbiamo fatto abbiamo preso un nano vettore fatto di un materiale naturale che non è tossico eccetera eccetera fatto sostanzialmente di filice porosa vetro nano strutturato che è piccolissima una piccolissima particella però è fatta e porosa quindi al suo interno può come dire può prendere il farmaco che si vuole veicolare questo nano vettore decorato con dell'oro che non fa altro che amplificare in maniera sproporzionata ma proprio di tantissimi ordini di grandezza la radiazione incidente quindi il laser la luce laser viene amplificata milioni di volte quindi ho un segnale raman amplificatissimo e questo cazzo cosa mi consente di fare mi consente di visualizzare il nano vettore che entra all'interno della cellula e di seguire il rilascio del farmaco in tempo reale cioè io so dire quanto c'è all'interno della cellula e quanto ne viene rilasciato con una sensibilità al femtogrammo in realtà possiamo scendere anche all'attogrammo guarda al meno 12 il femtogrammo c'è abbiamo una sensibilità pazzesca pazzesca e quindi questo come dire visualizziamo la cellula vediamo come questa si trasforma in funzione del del farmaco e visuriamo anche la quantità di farmaco e questo ci ci consente anche in qualche modo di dosare il farmaco che dobbiamo dare al al paziente e capire quanto ne occorre alla cellula per per trasformarsi e ritornare a uno stato come dire non non metastatico non tumorale quindi le applicazioni di questa di questo spettro spettroscopia raman sono sono molteplici e devo dire che insomma questa la parte applicativa di questa attività di ricerca è sempre quella che mi appassiona di più insomma non so se si capisce da loro apre anche delle bellissime prospettive esatto esatto e ovviamente insomma se avete delle delle domande sono sicuro approfondire qualsiasi insomma infatti noi attendiamo per chi vuole ha allora allora è arrivata una domanda è arrivata una domanda è arrivata poco fa un minutino fai chiede che tipo di relazione ci può essere conseguenze tra cellule tumorali e covid non so cosa non so se è direttamente legale che tipo di relazione ci può essere trattino conseguenze tra cellule tumorali e covid non lo so nel senso che non vedo una relazione tra il covid e le cellule tumorali però sicuramente i pazienti di cancro insomma che sono immunodepressi perché fanno delle terapie sono più a rischio però diciamo oltre questo non saprei che connessione trovare ma hanno chiesto dalla regia se posso se può specificare meglio cosa cosa intendevano magari gli studenti come come domanda nel frattempo attendiamo altre domande se siete curiosi su queste applicazioni su quello che è successo sul se volete scrivere fisica perché vi siete innamorati di questo settore e certo è colpa tua e poi ti vengono a prendere se non gli piace fisica no 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 assolutamente io nel frattempo ne approfitto ti chiedo anche se riesci a passare alla prossima slide così ricordiamo per chi non se la sentisse di fare adesso una domanda per chi vuole un pochettino rifletterci magari prima di scrivere a info chiocciolascuola.it quindi noi rimaniamo a disposizione appunto per provare a ripanare qualche dubbio qualche curiosità che vi è rimasta anche se tornate a casa poi lo dite al professore ci invia tutte le questioni ricordiamo che si troverà la diretta la diretta la diretta la differita di questo webinar sul canale youtube air education e di seguire insomma tutte le iniziative di air nelle scuole in generale i possibili i possibili diciamo webinar futuri io direi che ci possiamo avviare verso la conclusione non sembra arrivare il proseguo della domanda di prima se posso dire una cosa diciamo a questi questi studenti a prescindere della fisica o non della fisica se do un consiglio seguite le vostre passioni qualsiasi passione perché solamente se siete motivati riuscirete in qualsiasi cosa lo dico sempre i miei genitori fanno tutt'altro nessuno di loro è un fisico appartiene al mondo accademico eccetera eccetera però era una cosa che loro hanno visto in me da quando ero piccola e mi hanno sempre spronata in questa direzione alla fine ho realizzato il mio sogno che è quello di fare ricerca e l'unica diciamo motiva l'unica cosa di cui sento di essere diversa dagli altri è la motivazione cioè ho sempre voluto fare questo quindi credete nei vostri sogni dai che bello con questo messaggio stupendo io direi che possiamo salutarci grazie di averci seguito grazie a chiara di essere stata con noi d'averci raccontato la tua ricerca grazie mille grazie a voi è stato un piacere un piacere davvero alla prossima buona giornata a tutti ciao ciao